Benvenute amici ed amiche sul nostro canale, ricordatevi sempre il mi piace e l'iscrizione al canale. Per Jean Gamal questo è un momento ricco di successo e novità per la sua carriera professionale e non solo. Dopo la partecipazione per ritirare il premio per il sociale al Monte Carlo Film Festival, l'attore infatti ha ricevuto un altro riconoscimento per le sue azioni benefiche. Nel frattempo però spuntano nuovi dettagli sul prossimo progetto della Disney, che finora è sempre stato abbastanza nascosto. Jean Gamal è ancora al centro della scena e molto probabilmente lo resterà a lungo. L'attore non solo negli anni ha saputo sfruttare il suo talento a livello internazionale, ottenendo nuovi progetti televisivi, ma si è anche dedicato molto al sociale. La star turca infatti ha accolto e portato avanti numerose iniziative benefiche. Per questo motivo il protagonista di Daydreamer era stato premiato lo scorso 30 aprile al Monte Carlo Film Festival per la fondazione dell'associazione Jean Gamal for Children e i risultati ottenuti dagli ospedali pediatrici italiani, ma anche per l'aiuto ai bambini ucraini in questo momento di difficoltà. Ma adesso pare che Jean abbia ricevuto un nuovo riconoscimento. Cosa sarà mai? Come sapete Jean Gamal ha collaborato con il nuovo spot pubblicitario De Cecco nell'ultimo anno. Ma non solo, l'attore infatti è anche stato protagonista di una sfida a scopo benefico lanciata dal marchio di pasta. Rigorosamente De Cecco. Adesso la parte migliore della ricetta. Se vi è piaciuto il mio piatto mettete un like. Per ogni like De Cecco donerà un pacchetto di pasta al banco alimentare. Buon appetito. La star turca aveva girato un video sui social in cui si immedesimava cuoco per un giorno. Per ogni like ricevuto la De Cecco avrebbe donato un pacco di pasta al banco alimentare. E visti i risultati ottenuti in così poco tempo, il brand alimentare e Jean Gamal sono stati premiati durante i TESPI AdWords 2022, ricevendo un premio per il sociale. Premio Grocery e Consumi. Ma le novità per l'attore continuano anche sul fronte lavorativo. Mentre continua a ritirare i premi di qui e di là, Jean Gamal riceve anche importanti novità sul fronte professionale. Oltre alla messa in onda di Viola come il mare su Mediaset insieme a Francesca Achillemi, prossimamente l'attore sarà protagonista di un nuovo progetto Disney. La piattaforma streaming per celebrare l'arrivo in Turchia ha in mente nuove produzioni, tra cui El Turco. La nuova serie TV vedrà come protagonista proprio il bello e tenebroso Jean Gamal. Ma la sorpresa sta nell'apprendere chi sarà al suo fianco. Ci sarà infatti proprio Hunter Ersel sul set come coprotagonista. Un brutto colpo per Karen Bursin, con cui l'attrice ha da poco chiuso una storia d'amore. L'interprete di Serkan Bolati in Love is in the Air, infatti, sembra sia ancora innamorato dell'ex fidanzata. Chissà come prenderà questa vicinanza all'irresistibile Jean Gamal. I fan, al contrario, sono sembrati molto contenti nell'apprendere di poter vedere molto presto questa nuova coppia di attori recitare insieme. Ricordatevi sempre il vostro mi piace ed iscriversi al canale per continuare a vedere queste news fantastiche. Buona giornata a tutti e al prossimo video.